Perfetto, ok, con la chitarra in mano, la signora può fare un passetto indietro, lì, facciamo queste quattro, ok, questo lo facciamo. Dove mi metto? Stai a farmi sotto, aspetta che mi vado. Per dove? Andrà tutto bene, andrà tutto bene, andrà tutto bene, andrà tutto bene. Devi dare, dare, per cercare di sentire un bianco, devi prendere i guardi. Scusate se lo ripeto, ma siete bellissime. Siamo bene? Bellissime. ечa. Scusate. Scusate. Ehi. Grazie per la visione!